Che fine hanno fatto le care vecchie riviste cartacee, compagne inseparabili di tutti i nostri momenti seduti sul trono di ceramica? Beh, c'è una novità. Ciao a tutti, sono Dr. Game e sono qui per fare i miei migliori auguri e il più grande in bocca al lupo al progetto Ludens e soprattutto alla sua versione su supporto cartaceo. Una rivista che davvero non avrebbe bisogno di presentazioni, date elementi che stanno dietro al suo sviluppo, fra i migliori esponenti della PSM d'eccellenza che fu. Si tratta di qualcosa che ci riporta un pochino indietro, ben impaginato, magari con qualche piccolo margine di miglioramento, ma dai contenuti molto validi e ben strutturati. Qualcosa di cui sentivamo davvero il bisogno. Speriamo che questa iniziativa possa avere vita molto molto lunga e che possa magari servire come spunto per qualche altro attore della scena. Beh, un saluto a tutti voi cari pazienti dal vostro Dr. Game e un enorme in bocca al lupo nuovamente al progetto Ludens. Grazie per la visione!